Buongiorno a tutti, io sono Alessia Lesi, consigliere dell'Ordine e responsabile della Commissione Responsabilità Sanitaria e oggi abbiamo organizzato un evento sempre in tema di responsabilità sanitaria e medica. Vedo tantissimi presenti qui in aula e moltissimi anche so essere collegati da remoto, quindi mi fa molto piacere perché evidentemente il tema incontra l'interesse dei professionisti che si occupano di questa materia. Per professionisti intendo sia i colleghi avvocati, che sono molti, ai quali noi offriamo una formazione che crediamo di fare di qualità, tendiamo alla qualità, invitando sempre relatori di massimo rilievo e non solo avvocati ma anche operatori del settore sanitario e operatori della giustizia in ambito di contenzioso sanitario. Quindi sicuramente abbiamo anche in presenza consulenti che vengono nominati dal tribunale così come dalle parti, quindi medici e coloro che si occupano di questo tema. Il tema è di particolare delicatezza le infezioni nosocomiali e l'onere della prova. È un tema peraltro che è anche una elevata valenza tecnica, una alta specialità tecnica, che quindi richiede necessariamente che sia affrontato da esperti in questa materia. E quindi chiedo scusa, non a caso, noi abbiamo chiamato credo i massimi esperti grazie di questo argomento. Innanzitutto abbiamo il presidente della tredecisima sezione del Tribunale di Roma, il dottor Alberto Michele Cisterna, che abbiamo atteso, non potevamo iniziare senza di lui ovviamente, il professor Vittorio Fineschi, che è un nostro, posso dire, quasi amico, perché ci onora della sua presenza, lo avremo sia con il presidente Cisterna e con il professor Fineschi, anche domani avremo un altro evento in materia di responsabilità sanitaria, formazione degli albite consulenti, quindi un altro tema molto importante, e ci portano il loro contributo, quindi di alta valenza scientifica e di esperienza e di accademia soprattutto. E poi l'avvocato Francesca Toppetti, che io ringrazio sempre perché lei è il motore di queste iniziative, organizza sempre eventi importanti, chiamando anche lei relatori di grande pregio. Infatti abbiamo il dottor Giorgio Marcelli, che è responsabile risk manager dell'azienda ospedaliera San Camillo Forlalini, e il dottor Riccardo Olivieri, lo stesso, stesso ruolo, risk manager dell'azienda ospedaliera San Giovanni Adolorata di Roma, quindi due esperti proprio di questa materia, perché se ne occupano professionalmente, credo tutti i giorni, nel loro mestiere, nella loro professione. Quindi iniziamo, io non dico altro perché gli interventi sono tanti e voglio dare il loro spazio, iniziamo questo pomeriggio formativo, l'avvocato Toppetti forse vuole fare anche un saluto, e poi diamo subito la parola al presidente Cisterna, grazie. Ringrazio il consigliere Alesi per questa introduzione, ritengo che oggi sia veramente un momento che non verrà dimenticato, perché parleremo del trittico di sentenze della Corte di Cassazione, quindi la terza sezione ha consegnato agli interpreti del diritto, giuristi, avvocati, strutture sanitarie e avvocati dei pazienti, avvocati delle strutture sanitarie, una linea guida, un protocollo chiaro da seguire in materia di prova e onere probatorio, però avremo l'occasione di riflettere su come si atteggia questo onere probatorio attraverso l'inquadramento che farà il presidente Cisterna per aprire i lavori di questo incontro, proprio del cuore di questo processo, e cioè il quesito sulle infezioni nosocomiali, che viene modellato proprio sulla base delle indicazioni della terza sezione nella sentenza 6386 del 2023. Quindi lascio la parola al presidente Michele Cisterna della tredicesima sezione. Vi ringrazio. Chiedo scusa per il ritardo, ma davvero quando si dice obblighi d'ufficio, ero testimone in un processo che è durato tre ore e mezza più del previsto, non per colpa mia, ero in coda, quindi ho appena finito a Piazzale Clodio. No, ringrazio per l'invito, è un'occasione, ne discutevamo con l'avvocato Toppetti, con l'avvocato Lisì, è importante perché si tratta anche un po' di fare i conti con questa giurisprudenza della Corte di Cassazione che non ci trova, diciamo, impreparati. Cioè non ci trova impreparati perché, secondo me, da tempo la sezione si era orientata nell'indicare quali dovessero essere i presupposti per l'affermazione di una responsabilità sanitaria sul punto. Io cercherò di fare un discorso che naturalmente porterà via i 20 minuti canonici, mi auguro che siano quelli previsti, in modo tale da dire alcune cose che non siano quelle che solitamente ci diciamo in queste occasioni, ma che in qualche modo si faccia uno sforzo per andare un po' avanti. E parto dallo sforzo per andare avanti perché penso che sia la questione più controvertibile di ciò che dico, dopodiché, fatto questo sforzo, cerchiamo un attimo di capire. E lo sforzo qual è? È quello di, che anticipo qui in una forma un po' più articolata per la prima volta, quindi mi rimetto alle vostre valutazioni, è quello di immaginare un recupero della legge Gelli laddove aveva distinto la responsabilità sanitaria nelle due declinazioni della responsabilità contrattuale ed extra-contrattuale per cercare di assegnare alla responsabilità extra-contrattuale uno spazio applicativo che finora non ha avuto, come tutti sapete, come tutti gli operatori ben sanno. Cioè si è sempre ritenuto o per gli ultimi bagliori della tesi del contatto sociale o perché la legge Gelli effettivamente, la legge Balduzzi prima e la legge Gelli dopo, comunque al regime di responsabilità contrattuale, hanno comunque operato un qualche rinvio, ma proprio a partire dalla Balduzzi e con la Gelli cercare di vedere cosa resta della responsabilità extra-contrattuale in materia sanitaria. Si potrebbe dire, resta sicuramente il caso in cui il paziente venga portato senza che abbia svolto una qualunque elezione, una qualunque opzione o scelta venga portato d'urgenza in un pronto soccorso o comunque riceva delle, vi si veda somministrati e trattamenti sanitari rispetto ai quali non vi è stata quella scelta, quel consenso dato alla prestazione sanitaria di cui la stessa legge Gelli parla quando parla di responsabilità contrattuale del sanitario e in qualche modo relega quella extra-contrattuale a un ambito molto marginale. volevo tentare di capire, però è una riflessione, ripeto, agli arbori e totalmente in apicibus, come si suol dire, cioè tentare di capire se c'è uno spazio per il 2050 in materia di responsabilità delle infezioni nosocomiali. Allora io prendo la massima della castazione, le ho cercate, ce ne sono parecchie, riguardano vari aspetti, però finalmente ne ho trovato una definitoria abbastanza recente, definitoria, cioè che contiene un'indicazione più generale e astratta rispetto al caso che era stato rimesso alla valutazione della Corte di Legittimità, in cui, lo devo leggere perché naturalmente i passaggi, ma cercherò di non essere pedante, la nozione di attività pericolosa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2050, non deve essere limitata alle attività tipiche già qualificate come tali da una norma di legge, ma deve essere esteso a tutte quelle attività che per la loro stessa natura e per le caratteristiche dei mezzi che vengono adoperati comportino una rilevante possibilità di verificarsi di un danno, dovendosi di conseguenza accertare il concreto requisito della pericolosità con valutazione e così via. Naturalmente si potrebbe discutere che nella spedalizzazione, il contratto di spedalità che il danneggiato, il paziente, contrae con la struttura, la sanificazione degli ambienti, la sanificazione delle strutture presso le quali si trova a operare sia un requisito imprescindibile, cioè un elemento costitutivo del contratto. di spedalità. Nel senso che dovremmo ritenere che in questo caso sempre di responsabilità contrattuale si parli e che sia difficile parlare di attività pericolosa. Però, però, c'è un però che è connesso al fatto che mancando al di là di un generico enunciato di una sorta neanche di massima di esperienza, perché già se fosse una massima di esperienza lavoreremmo con concetti più fini, mancando una valutazione affidabile di quello che viene comunemente tralaciticamente detto, cioè che dall'interno delle strutture sanitarie, sia pubbliche che private, c'è un rischio di infezione connesso e costitutivo rispetto alla struttura stessa, ineliminabile, cosa che viene detta, ma rispetto alla quale mancano delle affermazioni assolutamente concludenti da poter essere utilizzate come massima di esperienza in senso stretto. C'è come presupposto di un sillogismo all'interno del quale si dica la struttura è tenuta a ciò, ciò si è verificato, questa parte che si è verificata percentualmente, per come si è verificata, per le sue caratteristiche, rientra in un'area di rischio incomprimibile e quindi in un'area di prestazione inesigibile da parte a carico della struttura. Dicevamo, al di là di questo, manca scientificamente un dato, anzi, il dato scientifico che abbiamo di riferimento, io lo mutuo da un seminario di qualche tempo or sono, un anno e mezzo fa, fatto all'Università Gemelli, anzi, l'unico dato che in quel caso veniva affidato come comprovato, è che in una situazione ospedaliera monitorata in maniera serrata e stretta per tutto un anno non si era verificata alcuna infezione nosocomiale. Era il caso, ahimè, dico ahimè perché è difficile l'emulare, di un ospedale militare israeliano dove si era riusciti, adottando tutte le precauzioni, ad avere zero infezioni nel giro di un anno, il che naturalmente la legge di incomprimibilità diventa diciamo più discutibile posto che abbiamo consegnato un estremo opposto, quello secondo il quale se si osservassero rigorosamente tutte le misure di sanificazione tendenzialmente si potrebbe arrivare a zero infezioni. L'altro dato che mi porto da quell'incontro che però chiederò poi al professor Fineschi conferma, ma mi pare che in un'occasione ne aveva già avuta, è quella secondo la quale nel giro, se non già ora, nel giro di pochissimo tempo, le infezioni nosocomiali saranno la prima causa di recesso all'interno delle strutture. Infatti mi conferma il professor Fineschi quello che ricordavo. Quindi da questo punto di vista stiamo parlando di un'area del risarcimento, di un'area del rischio particolarmente ampia. Perché parlo del 2050 e non abbandono la tesi del 2050? Perché il problema potrebbe porsi diversamente se osservando le prescrizioni e la legge Gelli ciascuna struttura si facesse carico nel proprio sito internet, nella comunicazione che è tenuta secondo legge a effettuare, a segnalare all'esterno e quindi ai presenti tutti i casi avversi che si sono verificati, indicando quante infezioni nosocomiali ha avuto per ciascun reparto nell'arco di un anno. Perché se ci mettiamo nella possibilità e nella traiettoria di dichiarare l'attività sanitaria, di poterla accertare, come dice la Cassazione caso per caso, come un'attività concretamente pericolosa, allora naturalmente c'è un problema che riguarda l'inversione dell'onore della prova che si sposta dalla struttura al paziente, una questione inerente al nesso di causalità che si sposta interamente ma già è così diciamo per la contrattuale ma si sposta definitivamente a carico del paziente ma soprattutto del danneggiato soprattutto il problema importante della condotta colposa cioè dimostrare che le procedure non sono state osservate. cioè è un'inversione nell'onore probatorio che non vuol limitare il risarcimento del danno perché naturalmente chi sbaglia paga diciamo è una legge costitutiva del risarcimento dai tempi della lex aquilia quindi la responsabilità aquilia nel poi cioè bisogna pagare ma non si tratta di limitare si tratta di rendere agevole con una riflessione se è possibile il percorso di responsabilità e ripartire gli onori probatori in maniera tale da un lato che se l'attività è ex professo dichiarata e quindi professo suona bene con confessio cioè confessata dalla struttura come pericolosa perché ha avuto un certo numero di eventi avversi il paziente a monte del consenso che dà al singolo trattamento è nelle condizioni di poter valutare a quale pericolo si sottopone nel momento in cui sceglie una struttura che ha avuto mille casi di infezione nosocomiale rispetto a una che ne ha avuti 10 perché credo dopo qualche anno di questo lavoro e in questa sezione credo che il governo delle prove e il governo degli oneri probatori debba essere in qualche modo ricalibrato per evitare quello che insomma sembra essere evidente che si possa avere una sorta di responsabilità da posizione rispetto alla quale la struttura sia pubblica che privata ha pochissime capacità di difesa vengo al tema che mi è stata affidata fatta questa premessa la consulenza tecnica d'ufficio naturalmente già da qualche anno la struttura diciamo porre i quesiti di cui dirò in sede di procedimento con le memorie con l'ordinanza sull'ammissione dei mezzi di prova col 183 o adesso con la legge cartabbia sia pure con la diciamo retrodatazione delle memorie porre la questione dell'onere probatorio ex abrupto per cui il giudice se ne viene fuori dimostri la struttura tutte le procedure di certificazione era una sorta di insomma imboscata processuale perché rispetto alla quale la struttura non poteva far nulla non poteva esibire nulla non poteva documentare nulla per fortuna la sezione da qualche anno introduce questi quesiti in sede di accertamento tecnico preventivo nel quale sostanzialmente e qui bisogna essere sempre sinceri quando si parla tra operatori delinea per la struttura quale è l'onere a cui deve assolvere lo sta dicendo guarda che devi provare questo posto che la presenza del consulente tecnico che guarderà l'aspetto dell'osservanza degli obblighi connessi all'igiene e alla sicurezza della struttura quindi degli obblighi di sanificazione è un apporto che deve potersi muovere su un alveo di documentazione che devi produrre credo che sia sfuggito diciamo in questi anni quanto diverso sia un quesito del genere posto in ATP dove c'è tutta la possibilità di instaurare un contraddittorio cartorale effettivo rispetto ai quesiti che venivano posti dopo il deposito delle memorie dopo il deposito della documentazione in cui quello che c'era c'era dopo di che un quesito del genere voleva dire mettere mano al portafoglio perché naturalmente nessuno poteva difendersi quindi costruito diciamo come giusto che sia cioè giusto che la giurisdizione non si erga a giudice diciamo col cappuccio che in maniera solitaria e oscura distribuisce e dispensa risarcimenti e condanne ma che debba avere un'interlocuzione con le parti cercando di dare loro delle indicazioni performanti su quello che bisogna portare al processo le consulenze tecniche al momento hanno tre scansioni ben precise la prima dimostrazione dell'effettiva osservanza degli obblighi di sanificazione il che vuol dire prova in concreto che i protocolli imposti dalle normative interne e regionali siano stati concretamente osservati ci sono strutture che hanno la capacità di farlo ci sono strutture che non hanno la capacità di farlo è una responsabilità organizzativa che adesso la Cassazione individua anche in soggetti specifici in soggetti specifici che hanno responsabilità amministrative che immagino che prima o poi saranno chiamati a rispondere direttamente come capitava al primario di rispondere all'operazione nella propria struttura rispondendo insieme a tutti gli operatori di quello che era successo perché come lì c'è un trasferimento di responsabilità evidente nel trattamento chirurgico dall'equip al primario che la dirige sia di sede civile che penale insomma dove ci sono cose molto importanti forse più importanti che nel civile sulla cooperazione colposa e sull'applicazione della norma sulla cooperazione e sugli obblighi che sono connessi ai doveri di vigilanza e di protezione così per le infezioni nosocomiali la Cassazione individua dei responsabili cioè soggetti nominativamente sia pure con le figure di riferimento apicali tenuti a garantire nelle varie articolazioni della struttura stessa l'adempimento degli obblighi quindi questi soggetti si trovano indicati dalla sentenza soprattutto dalla prima e più importante sentenza del 2023 come responsabili del trattamento di sanificazione sono i soggetti che devono nel processo riversare la prova che ciò sia accaduto secondariamente si chiede di verificare se la diagnosi sia stata tempestiva soprattutto ai fini delle cosiddette diagnosi differenziali che talvolta inquinano il quadro di valutazione nell'immediato circa l'insorgenza dell'infezione stessa orientando dal volta i sanitari verso soluzioni diverse poi restringendo il campo anche con diciamo uno screening adeguato del paziente che intercetti l'infezione tempestivamente il terzo punto una volta stabilita che la diagnosi è stata tempestiva l'adeguatezza del trattamento sul quale si apre un problema naturalmente si apre un problema problema che attualmente non è affrontato in serie di quesiti problema tuttavia importante pesante per come la Cassazione l'ha posto in questa sentenza se non sbaglio 19 settembre 2023 c'è il problema del concorso tra cause naturali e cause umane o meglio del concorso tra eventi naturalistici connessi allo stato di salute del paziente condotte colpevoli del sanitario il concorso di cause non sto a parlarne col professor Fineschi presente insomma è una questione fortemente dibattuta sulla quale però una cosa è vera la giurisdizione ha espropriato la scienza cioè quando mi sono riapprocciato a questo tema ho trovato un mondo in cui effettivamente la scienza medica è messa ai margini dal fatto che la Cassazione ha costruito un reticolo sull'articolo 41 invalicabile stabilendo cose in materia di nesso causale o meglio regole anche se un bellissimo libro il realismo americano si chiama far regole con le cose però ha stabilito principi con i quali bisogna misurarsi bisogna tornare a misurarsi scientificamente dopo la famosa sentenza del 2002 sul caso francese perché dal 2002 è passato molto tempo probabilmente si possono affinare le cose perché lo dico in materia di infezioni nosocomiali perché sappiamo benissimo che il problema si pone non per il caso dell'infezione da cui il paziente viene guarito che riesce a superare ma il problema drammatico delle controverse si pone in caso di decesso dove ci sono pazienti particolarmente defedati pazienti molto spesso anziani con patologie gravi diabetiche e quant'altro dove effettivamente il paziente si colloca e si presenta all'operatore sanitario in una condizione in una condizione particolarmente torno ad usare l'avverbio particolarmente complessa e delicata dove è più facile che l'infezione abbia effetti esiziali bene se la Cassazione il 19 settembre del 2023 dice che posto il principio indiscutibile in base al quale nel concorso materiale tra eventi naturali di eventi condotti umane la condotta umana risponde del nesso causale materiale per quanto riguarda le verificarsi dell'evento la famosa regola di Marco Rossetti 99 di cause naturali 1% di cause umane l'uomo risponde dell'evento e il problema si pone in maniera diciamo si è posto in Cassazione in maniera diversa e tra l'altro è un caso di morte proprio quello che è stato massimato oltre che scritto in sentenza il problema si pone diversamente quando si tratti di valutare la causalità giuridica e la corte scrive in questa sentenza che bisogna mitigare il risarcimento che è una cosa che letta così riprende una sentenza famosa della Cassazione del 2011 la fate bene fratelli contro la struttura della fate bene fratelli dove quel principio era stato espresso poi c'è stata una moratoria di 12 anni nel corso della quale la Cassazione questo orientamento ha affermato in un'altra pronuncia ma episodicamente dopodiché la riedizione del principio devo dire al massimo livello della corte cioè si tratta di un collegio di assoluto livello insomma preseduto da Travaglino quindi cose che sono impegnative anche perché in quella sentenza è stata massimata in 5 punti indicando nell'assoluto valore e l'assoluta pregnanza ha subito 5 massimazioni cioè ha ricevuto 5 massimazioni detto ciò e vado a concludere il problema il problema se effettivamente ci dobbiamo porre la questione di chiedere ai medici legali e agli specialisti infettivologi esperti come il mio correlatore di oggi nella materia delle sanificazioni dal versante appunto dell'igiene all'interno dei luoghi di cui parliamo se dobbiamo affidare a costoro il compito di dirci quanto risponda la struttura dell'infezione e quanto come si giochi il concorso di cause tra l'una e l'altra io non so non credo che sia risposta né agevole né scientificamente misurabile in termini assoluti a meno che non si voglia ricorrere alle valutazioni sulle aspettative di vita che infatti di cui la sentenza parla non a caso ci mette subito dopo aspettative di vita e perdita di chance perché si rende conto di come stiamo andando a impattare e di dove stiamo andando a impattare e di dove sta andando a impattare questa pronuncia e quindi pone un problema delicato nel valutare anche quale sia il danno se il danno c'è effettivamente la morte come si fa a stabilire che è morto all'89% per il diabete unito ad altre questioni e mentre il 10% all'11% è dovuto all'infezione che ha contratto non è il buonsenso il buonsenso ci fa capire tutto ma qui le regole del buonsenso non ci servono cioè non servono questo le regole del buonsenso noi le applichiamo quando andando sul danno parentale come danno riflesso come danno patito dai congiunti diciamo attenzione per un paziente particolarmente defedato il risarcimento va contenuto perché lo sconvolgimento di vita che tu hai subito per l'effetto della morte di un paziente di 89 anni malato gravemente è quella che la Cassazione del 2022 chiama la perdita di utilità in maniera un po' brutale cioè l'utilità del rapporto di una persona particolarmente malata e defedata è sicuramente inferiore ma lì stiamo parlando di una cosa diversa cioè abbiamo risolto il tema della causalità materiale abbiamo risolto il tema della causalità giuridica e abbiamo detto conteniamo il risarcimento perché le voci di danno che compongono le due voci di danno che compongono il danno parentale vanno circoscritte per effetto di questa condizione del paziente che non può essersi riflessa sulla condizione dei suoi parenti i quali indubbiamente non è che avessero hanno subito uno sconvolgimento tale della propria esistenza in presenza di un'infezione che ha sicuramente e chiudo con estrema cautela perché è una strada pericolosa è una strada che ideologicamente e diciamo moralmente epistemologicamente costituzionalmente porta all'eutanasia cioè porta all'individuazione del fatto che la vita di chi è malato vale di meno della vita di chi è sano è qualcosa che non si può accettare rispetto alla quale c'è un baluardo da rispettare finché si dovrà rispettare non parlo dell'eutanasia parlo della stima delle voci per cui una persona in ottima salute che ha 80 anni ha rapporti eccellenti con i propri figli non può essere consigliato che valga di più rispetto a chi ha 80 anni sul letto da 10 anni vede i propri figli su Skype su Whatsapp li saluti abbia i suoi nipoti una volta all'anno ma comunque abbia un rapporto affettivo quindi sono questioni molto delicate questioni che attengono alla prova che non può risolversi come spesso si fa col solito testimone è vero che ci vediamo a Pasqua e Natale ma è questione che deve essere affrontata più rigorosamente questa della prova dei rapporti indubbiamente per abbandonare vie che sono state eseguite per decenni e che vanno dismesse alla luce dell'evoluzione tecnologica delle comunicazioni e dell'intensità dei contatti che si realizzano con i canali che tutti adoperiamo è una questione molto complessa quindi come vedete si parte alle infezioni per arrivare a quanto vale una vita ma indubbiamente proprio l'infezione nosocomiale proprio in caso in cui determina morte è una terra di confine delicata e scivolosa sulla quale bisogna intervenire con assoluta prudenza perché sono in discussione questioni che dal mio punto di vista sono costitutive della giurisdizione grazie grazie mille Presidente Cisterna perché lei ci illumina sempre non solo con degli spunti di carattere tecnico per coloro che ci ascoltano ma ovviamente anche con spunti diciamo di diversa natura direi quasi filosofici che ci arricchiscono come professionisti e come insomma persone che ovviamente trattano questa materia credo con estrema delicatezza e rispetto considerando appunto il tema che viene di volta in volta in esame e ci ha anche diciamo illuminato nel senso che ci ha reso i dotti del fatto che in tredicesima vengono tracciati dei percorsi che quindi consentono sia ai pazienti che coloro che difendono i pazienti e coloro che difendono le strutture di trovarsi su un alvio come lei ce l'ha descritto anche già tracciato dove anche gli avvocati difensori consulenti si possano muovere in maniera diciamo più orientata nel tempo e nello spazio ora non mi permetto di riassumere il suo intervento la ringrazio ancora però prendo spunto dalla sua frase la giurisdizione che ha espropriato la scienza allora per ripristinare questo rapporto questo equilibrio diamo la parola al professor Fineschi che sicuramente da scienziato ci farà la sua solita lezione magistrale grazie grazie avvocato Alesi innanzitutto buonasera a tutti ringrazio il presidente l'avvocato Nesta ringrazio l'avvocato Toppetti per questo grandissimo invito e devo dire mi sento un po' a casa ormai qui perché ci risaleremo insieme presidente anche domani e mi fa piacere esserci perché il dialogo del medico legale non può essere solo con i medici ma deve essere necessariamente essere anche con gli avvocati con i giudici e premettendo che non ci siamo messi non si sente allora lo metto qua premettendo che con il presidente Cisterna non c'eravamo assolutamente messi di accordo sul suo intervento e a seguire il mio partirò proprio da alcuni dati che il presidente ha tracciato in maniera esemplare come è suo solito cioè la struttura è tenuta a comprimere il ricorrere di queste infezioni correlate all'assistenza e se è tenuta a ciò bisogna capire se questo cioè l'incidenza delle infezioni stesse può rientrare in un'area di rischio incomprimibile combinazione ha voluto che nel 2022 è uscito un documento molto importante del WHO del World Health Organization e a settembre di quest'anno che ha fatto molto presa sui media è uscito un documento OXE che ha tracciato in primis l'antibiotico resistenza ma possiamo dire che l'antibiotico resistenza è una faccia delle infezioni nosocomiali e lo vedremo in questo rapido intervento che farò perché è una delle motivazioni principali però innanzitutto necessita un inquadramento definitorio che cosa sono le ICA sono infezioni che occorrono in un paziente durante il processo di cura durante la cura in un ospedale o in una struttura comunque deputata alle cure che non era presente o non era in incubazione al momento dell'ammissione nel reparto questo include quindi le infezioni acquisite in ospedale ma che appaiono anche a distanza di tempo contenuto dalla dimissione e anche le infezioni occupazionali del personale sanitario questa definizione è una definizione del 2011 sempre della WAHO e la prima pagina di questo documento del 2022 ci dice che nessun paese o sistema sanitario anche molto sofisticato può dichiarare di essere libero dalle infezioni correlate all'assistenza è un'affermazione che ci sentiamo di condividere ma io ho pienamente e poi come vedete in questa pagina che cosa ci dice che sette pazienti su cento in paesi industrializzati hanno la contrazione di un'infezione correlata all'assistenza se andiamo in paesi non industrializzati si sale a 15 pazienti su cento questo evento di contrazione dell'infezione è particolarmente importante nei neonati e poi c'è anche nella parte centrale di questa prima pagina introduttiva un riferimento all'infezione covid che ci dice che nei paesi europei il 41% delle positività covid sono state rilevate in ambiente ospedaliero cioè durante si sono infettati durante il ricovero e ci dice anche che i sanitari hanno avuto una prevalenza della positività durante il lavoro che oscilla fra lo 0,3 e il 43% questi sono i dati di contesto i dati europei l'Italia è indenne da questo no vedremo che nelle classifiche è la seconda peggiore europea come tasso di infezioni correlate peggio di noi riesce a fare solo riescono a fare solo i ciechi ma non sensorialmente ma della popolazione della repubblica cieca e vedete i dati che sto mettendo sono ben noti diminuisce per lo meno nell'esperienza personale il tasso complessivo di sinistro ospedalieri aumenta quello legato alle infezioni correlate all'assistenza e le infezioni c'è una difficoltà di trasmissione di comunicazione che devo dire quando andrò a criticare in maniera palese la sentenza più volte citata la 6386 lo farò perché l'ho fatto anche in un dibattito alla presenza quindi non parlo perché assente il presidente Travaglino ma ne abbiamo parlato e sono stato molto critico come lo sarò oggi perché è una sentenza inattuabile dal punto di vista medico se dovessimo seguire quel decalogo quel protocollo che c'è stato prospettato sarebbe impossibile tecnicamente seguirlo 7% di prevalenza europea italiana 8.3% vedete la cosa importante che ho sottolineato non sono tutte prevenibili in quanto sono legate alle condizioni del paziente oppure al profilo diagnostico terapeutico del paziente quindi valutazione caso per caso e valutazione che deve essere ben cognita a chi è all'interno come membro di un comitato delle infezioni correlate all'assistenza a cui do grande rilievo anche medico legale perché questo comitato ha funzioni fondamentali nelle strutture sanitarie per cercare di capire innanzitutto il fenomeno il presidente Cisterna nella sua sensibilità e conoscenza della legge 24 ci ha detto se fossero attuati come si deve i primi scusate non i primi l'articolo 2 3 e 4 della legge 24 cioè la conoscenza del dato l'integrazione del dato la trasmissione dei dati del contenzioso e degli eventi avversi beh sarebbe veramente importante per capire il fenomeno confrontarsi cosa che adesso non possiamo fare se non per conoscenze dirette o per incontri congressuali come questo e allora un primo momento devo dire non svelo niente quando dico che all'interno della commissione nordio stiamo mettendo l'obbligatorietà per questi articoli che come sapete adesso sono rimessi alla sensibilità delle singole strutture e invece stiamo creando delle sanzioni per chi non si atterrà alla divulgazione ma soprattutto innanzitutto al recepimento di questi dati interni e poi renderli pubblici e poi l'ho già accennato se è vero l'affermazione che ho sottolineato che sono legate a fenomeni intrinseci al paziente o al profilo diagnostico e terapeutico un grande problema ed è il secondo documento importantissimo quello dell'Ocse del 2023 settembre 2023 che è tutto dedicato all'antibiotico resistenza perché si dice ma su base scientifica su dati scientifici che da qui al 2035 la situazione andrà epidemiologicamente nettamente a peggiorare in quanto a incidenza di infezioni correlate all'assistenza proprio per il fenomeno dell'antibiotico resistenza nonostante il Ministero della Salute abbia da molti anni un piano nazionale di contrasto che il Consiglio dell'Unione Europea ci stia lavorando per la sicurezza del paziente ma comunque è una grave minaccia e vediamo che cosa allora i dati ci dicono perché se è vero quello che ci dice il Presidente non poteva essere diversamente che le strutture devono dimostrare un rischio incomprimibile i numeri sono fondamentali dati ufficiali 16 milioni di giornate di degenza aggiuntive correlate alle Ica 37 mila decessi 110 mila sono attribuibili alle Ica ogni anno 7 miliardi di euro di spesa europea e vediamo i dati assicurativi quelli che è possibile ottenere in Italia questa è una ricerca del 2020 è l'unica che ancora è possibile consultare perché come sapete le compagnie assicurative ormai quelle italiane non ci sono quelle di bandiera non ci sono o sono molto residuali e i dati che sono qui analizzati sono frutto di una compagnia di brocheraggio che quindi ha censito le strutture che avevano una copertura totale o anche parziale del rischio vedete che incide circa 8-10% l'infezione correlata all'assistenza nei casi di decesso per infezione ospedaliera 13% è giudiziario il costo ma quando il paziente non decede per la sola infezione ha un costo medio di 113 mila euro con una media per sinistro di 50 mila euro con un liquidato che oscilla sui 57 mila euro è un riservato di 46 mila euro vedete però che questa percentuale e questi numeri questi euro modificano notevolmente quando si parla di un decesso e c'è un 6% di un penale generalmente in questi casi per lo meno nell'osservazione di questo ente di questa ente di brocheraggio e come vedete quando arrivano questi sinistri beh arrivano addirittura l'80% in un range di 6 anni ma insomma noi vediamo penso che sia esperienza anche degli altri medici legali oggi presenti che arrivano anche a 9 anni 11 mesi e 30 giorni vediamo ormai tutto però come vedete sono long tail come direbbero in ambito assicurativo sono sinistri che hanno una coda lunga e che quindi rendono ancora più difficile la riservazione e la gestione dei fondi e il costo per sinistri da infezione ospedaliera incide per il 4% dei costi totali 47 milioni di euro complessivi e allora abbiamo un problema emergente la cosiddetta dimensione risarcitoria che cosa ha costituito come momento di impegno per chi soprattutto gestisce i sinistri in fase di difesa e non in fase attiva beh innanzitutto fondarsi su quello che la giurisprudenza ci diceva ma anche il suo divenire e creare anche all'interno una situazione che potesse essere di ausilio nella difesa devo dire che siamo partiti anni fa con le prime richieste e le prime richieste presidente praticamente si parlava di responsabilità oggettiva lo dobbiamo dire ha preso un'infezione quando è entrato non l'aveva la contratta in ambito ospedaliero e quindi la dovete pagare anche perché c'era una giurisprudenza che sosteneva questo presidente quindi e nonostante i gridi di dolore le grida di dolore della medicina legale siamo andati avanti così per anni poi c'è stata un po' una svolta però che cosa dobbiamo su cosa dobbiamo riflettere primo punto quali sono i germi più correlati perché questo è un primo dato importante quali sono i germi che sono più frequentemente coinvolti nelle infezioni come vediamo sono infezioni del sito chirurgico infezioni veurinarie infezioni ematiche a cateteri centrali infezioni del tratto respiratorio correlate a manovre in ventilazione assistita e come vediamo ce ne sono diversi di questi germi ma se andiamo poi a vedere il documento 2023 dell'Ocse vediamo che sono tre patogeni che assorbono il 75% delle infezioni all'interno dell'ospedale tre patogeni che sono le scherichia coli la clepsiella preumone e lo strafilococco aureus questi tre sono il 75% delle infezioni e già questo qualcosa ci dovrà dire ci dovremo confrontare su questo e se vediamo il grafico in basso sulla sinistra della diapositiva vedete l'incidenza i tre picchi sono relativi ai tre germi che ho citato e se andiamo nella parte destra della diapositiva vediamo come si correlano questi germi con l'antibiotico resistenza che devo dire e dispiace difficilmente troviamo citata nelle CTU perché si dà per scontato che quando un'infezione si contrae l'antibiotico resistenza sia un problema interno all'infezione e non è così vediamo che cosa ci dicono i numeri anche in questo caso perché da Galileo un po' poi credo che quantificare sia importante allora i numeri di morti attribuibili alle infezioni correlate all'assistenza di germi però non suscettibili sono 133.000 se andiamo a vedere quali sono le infezioni invece che hanno una correlazione con germi resistenti diventano 541.000 dati europei capiamo che sono tre volte tanti e quindi altro problema che si pone se questi germi sono quelli che incidono e che quando sono resistenti perché sviluppano resistenza incidono tre volte tanto riponiamoci un problema tutti questi problemi sto ponendo nella fine di queste diapositive cercherò di capire come possiamo affrontarlo ma è un mio modestissimo parere e questo è l'albero della World Health Organization che ci dice quali sono i momenti centrali documento 2022 del controllo dell'infezione l'altra cosa che spesso in CTU emerge e che tengo a precisare mi si dice beh la letteratura presentata dovrebbe essere coeva al momento no perché se io ti presento dei documenti ufficiali che sono 2022 2023 sono semmai migliorativi rispetto al momento precedente e quindi sono validi in termini metodologici per affrontare il problema perché se parliamo di epidemiologia di incidenza e di correlazione con l'antibiotico resistenza è chiaro che oggi stiamo un po' meglio di qualche anno fa e fra qualche anno invece staremo peggio di qualche anno fa quindi quali sono i rami di questo albero della prevenzione e del controllo delle infezioni sono l'improvement della qualità dell'assistenza la sicurezza del paziente la regolazione internazionale della salute che propone problemi nuovi scenari nuovi e poi a mio avviso i più importanti sono l'ultima parte della fronda di quest'albero che sono la prevenzione della resistenza antimicrobica gli irrealistici oneri probatori proposti da questa sentenza irrealistici lo dico con grande umiltà ma occorre dirlo mi fa piacere che ci sia il presidente salutiamo il presidente Travaglino che ci ha fatto l'onore di raggiungerci io lo inviterai a sedersi qui per favore allora visto che è in aula il presidente questa diapositiva si legge con irrealistici oneri probatori perché sono irrealistici devo dire quando non era presente il presidente che ho anticipato che su questo ci siamo già confrontati a Padova in cui ho fatto presente alcune difficoltà innanzitutto diamogli un'occhiata alcune cose non sono non si attengono in generale la qualità dell'area degli impianti di condizionamento l'indicazione dal rapporto numerico tra personale e due genti cioè qual è l'ospedale che ha un rapporto numerico che soddisfa la situazione non esiste in Italia purtroppo occorre dirlo vogliamo andare avanti e l'altra parte della sentenza che mi ha spaventato adesso devo usare toni molto più morbidi prudenti sono gli oneri soggettivi il dirigente apicale il direttore sanitario chi ne risponde quindi in questa piramide l'apicale il direttore sanitario il dirigente di struttura complessa e ho fatto presente lo faccio anche stasera che la legge 24 prevede all'articolo 13 un obbligo di segnalazione per chi è coinvolto nel sinistro per chi si presuppone essere coinvolto nel sinistro e ho detto al presidente Travaglino che sicuramente sarò prestissimo licenziato dal policlinico perché dovrei mandare al direttore generale al direttore sanitario l'articolo 13 se questo è quello che io devo seguire quindi siccome noi abbiamo un'incidenza comunque superiore alla decina in un anno di richieste di risarcimento alla decima immagino il direttore generale mi chiamerà e mi dirà grazie per l'apporto ma ne facciamo a meno di lei perché insomma non so quale poi compagnia assicurativa potrebbe trovare dopo il decimo avviso e quindi ritengo che forse ci dovremo riflettere su questo e trovare una soluzione tralascio la parte sulla legge 24 perché sappiamo che l'attività di prevenzione del rischio dovrebbe essere tenuta da tutto il personale e conseguentemente il cambio di direzione che premetto c'è stato solo in parte dal danno al modo per evitarlo dovrà essere nuovamente oggetto di rivisitazione magari ripeto rendendolo obbligatorio per legge nella modifica e cercare quindi di migliorare la situazione che in questo momento è molto limitata in quanto ad applicazione pensate perché lo è è una legge a costo zero chi fa rischio clinico all'interno è generalmente per un cambio di mansione oppure perché è di buona volontà e dà una mano a chi gestisce il contenzioso e il rischio clinico all'interno e poi c'è quest'altro ulteriore problema se il problema è presente in tutto il mondo qui do dei dati per esempio l'aumento proporzionale sempre di un germe lo stafilococco aureo in Inghilterra negli Stati Uniti sempre lo stesso che è prevenibile ma che comunque continua a incidere e in Italia questo contenzioso che lo pone adesso ma in proiezione lo porrà al primo posto addirittura si stimano che i morti potrebbero essere nel giro di un decennio maggiori annualmente per le Ica rispetto agli incidenti stradali Presidente quindi immaginiamoci che cosa può succedere e poi abbiamo quest'ulteriore problema che sfioro semplicemente che non possiamo considerare l'infezione correlata all'assistenza una complicanza perché la giurisprudenza dal 2015 ci dice che è irrilevante se non abbiamo delle possibilità di dimostrare che è una causa non imputabile e non rientra nella sfera concettuale di complicanza e allora come fronteggiare questa problematica? fondamentalmente con la cultura i CICA che una volta avevano solo un compito generalmente lo dico perché ne ho fatto parte un compito semplicemente di conoscenza dei germi alert all'interno ecco adesso si devono rimboccare le maniche e capire come presidiare il controllo delle infezioni in maniera attiva attiva questo è fondamentale cioè l'importanza della qualità di come clinicamente si trattano le infezioni è fondamentale ma occorre adesso dare anche grande peso al controllo del contenzioso legato e vedete che ci sono i programmi questo è il documento del 2023 di pochi mesi fa che ci dice che la prevenzione e il controllo delle infezioni si basa su una strategia multimodale che vede otto punti fondamentali il primo avere un programma interno quindi al di là dei protocolli presidente ma quella struttura ha un programma strutturato per gestire il secondo avere dei protocolli che gli anglosassoni chiamano guidelines ma che sono le stesse cose in termini di riflesso il terzo educazione e anche training cioè far capire all'interno degli ospedali come ci si comporta e anche addestrarli a comportarsi la sorveglianza interna i dati che diceva lei presidente capire come vanno qual è l'andamento e poi renderlo pubblico e poi all'interno se c'è un reparto faccio un esempio indifendibile che spero non mi capiti mai ma se in una sala operatoria oculistica io ho 5-6 infezioni a seguito di intervento sull'occhio di uno stesso elemento o fungino batterico è chiaro che c'è un problema della sala è chiaro che diventa epidemiologicamente incontrastabile e quindi che cosa faccio monitorizzo faccio degli audit e do feedback cambio probabilmente la reazione probabilmente è stata una mancata sterilizzazione o una difettosa sterilizzazione ecco ma al di là di questi casi di scuola è chiaro che il monitoraggio e l'audit sono fondamentali per capire l'andamento e le correzioni in un reparto e poi ancora lo staffing l'occupazione di posti letto non è tanto il problema della correlazione quanti pazienti quanti infermieri ma il problema anche dell'occupazione letto quale tipologia di pazienti in quel reparto sono transitati e così via e infine l'ambiente di costruire un ambiente il materiale usare materiali e anche l'equipaggiamento che sia consono all'evoluzione delle infezioni correlate all'assistenza e delle loro problematiche non tocco non si preoccupi il dottor Marcelli non lo tocco i documenti voglio semplicemente dire che in regione Lazio su questo stiamo lavorando e abbiamo lavorato abbiamo creato insieme al dottor Sabatelli un documento di interizzo sulla prevenzione e gestione delle infezioni correlate all'assistenza per dare dei paletti per mettere dei paletti e abbiamo detto anche quali devono essere le principali attività all'interno delle strutture sanitarie e come vedete al punto 1 e 2 monitoraggio e verifica dei casi epidemici e preparazione dei protocolli la sorveglianza e poi altro dato importante l'attività scientifica attraverso la pubblicazione sulle attività svolte se si fanno queste attività le dobbiamo rendere pubbliche per dar modo poi non di esibirle come documenti interni ma di far capire che quell'ospedale ha una sensibilità particolare e sta lavorando anche scientificamente per correggere il problema e poi infine ancora sull'antibiotico resistenza una politica attraverso implementazione del corretto uso e questi sono il corretto uso documento 2023 sui momenti centrali dell'impatto delle politiche d'azione per combattere to tackle l'antibiotico resistenza e come vedete sono le policies per promuovere un uso prudente degli antibiotici le policies per ridurre l'incidenza e le policies per implementare le coperture vaccinali e poi uno strumento che in Italia è poco usato ma che molte regioni si stanno organizzando e anche la regione Lazio sto spingendo perché venga applicato i cosiddetti bundle che cosa sono i bundle i bundle sono un insieme di pratiche evidence based che sono applicate congiuntamente vedete ho messo l'indice un bundle è un protocollo che gli ospedali fanno in cui si mette all'interno la prevenzione dell'infezione del sito chirurgico il posizionamento del catetere vescicale la gestione il catetere venoso periferico cioè la legge del tutto o nulla un bundle ha successo solo se tutte le componenti vengono applicate perché il bundle è importante perché se io faccio prevenzione sull'infezione del sito chirurgico farò anche conseguentemente prevenzione anche sul catetere centrale e sulla polmonite in chi è sottoposto a ventilazione meccanica perché è conseguenziale è uno strumento di natura anglosassone che adesso molte regioni con buona sanità per esempio per tutte il friuli Venezia Giulia hanno già applicato e hanno visto un drammatico calo delle infezioni correlate all'assistenza e poi dobbiamo difenderci ultima parte il documento di indirizzo che abbiamo fatto in Regione Lazio sulla costituzione del fascicolo difensivo nel contenzioso derivante da ICA vedete le azioni qualità della documentazione sanitaria linee guida e procedure aziendali applicazione dei protocolli perché non è automatico che un ospedale abbia i protocolli e li applichi è automatico che sia documentato in cartella che quel protocollo effettivamente è conosciuto e applicato e questa è un'ulteriore difficoltà e poi ancora la formazione che è un punto tutto questo servirebbe e questo è una fotografia di una risposta a un quesito della tredicesima che come vedete nella parte superiore il quesito B prevedeva se la struttura avesse prodotto documentazione sul Parm e Paica e vedete che i periti rispondono sì numerose iniziative informative e le attestazioni e sul quesito C la costante applicazione effettiva applicazione delle procedure di prevenzione all'interno della struttura convenuta e vedete che vi erano dei report all'interno presso estratti dalle cartelle cliniche dei reparti in cui il paziente era stato ricoverato che documentavano l'effettiva applicazione dei protocolli tutto questo ci può servire per evitare che questi soldi che ho quantificato all'inizio non siano più dedicati all'assistenza e ai costi dell'assistenza ma siano diciamo distratti in un contenzioso che ormai le aziende soprattutto del Lazio che sono in autoritenzione dedicano alla gestione dei risarcimento e il che è un grande problema la conclusione è che le misure preventive di controllo devono avere una fruibilità dei dati una diffusione dei dati per operatori e pazienti quindi è importante anche che il paziente sappia qual è l'incidenza in quel dato ospedale perché può decidere liberamente in termini diversi e poi le implementazioni di adeguamento lavorare sui documenti che costantemente e incessantemente escono e che ci danno nuovi diciamo spiragli di gestione nuove visualizzazioni in termini clinico ma anche di riflesso medico-legale tutto questo per evitare di riempire un salvadanaio che esce dalla gestione clinica e rientra in quella di risarcimento d'anno grazie per l'attenzione grazie professor Finischi come avevo anticipato e ne ero sicura sarebbe stata ed è stata una lezione magistrale perché il professore ci ha portato a parte la sua esperienza di accademico anche quella di ora componente della commissione nordio quindi diciamo qui anche in veste diciamo di legislatore nonché di come dire divulgatore che ci ha aiutato a noi che ci occupiamo a chi si occupa di questa materia quindi avvocati consulenti in termini anche concreti in termini pratici di indicazioni utili su come affrontare la gestione del contenzioso come affrontare la prevenzione del rischio che mi sembra anche di capire dalle indicazioni dai suggerimenti del professor Finischi che devono lavorare insieme ci deve essere uno scambio di informazioni tra chi gestisce il contenzioso chi previene il rischio in quello che si può definire un flusso osmotico di informazioni che ci deve essere e non ultima anche la formazione degli operatori in aula qui abbiamo anche io ho intravisto un direttore generale di un asl laziale e quindi credo che tutto quello che noi stiamo dicendo qui sia veramente di utilità comune in chiave professionale in chiave di assistenza e di poter affrontare al meglio questa materia sia in chiave appunto in ambito sanitario ospedaliero che in ambito giudiziario mi sembra però anche giusto che visto che è stato tirato in ballo tante volte il presidente trapeglino avrebbe diritto di replica io credo che qualcosa potrebbe venire a dire se vuole se ha desiderio e disponibilità noi sicuramente lo invitiamo intanto vorrei preannunciare è presidente che ci dice lei preferisce stare lì in fondo va bene allora è stato chiamato in causa professore che dice io avevo già messo i guantoni perfetto va bene allora andremo tutti ovviamente tutti chi non l'ha già fatto ma sicuramente tutti a leggere la sentenza e ognuno trarrà i propri il proprio convincimento e do la parola ora all'avvocato Toppetti per la sua relazione grazie allora diciamo che stavo proprio ricollegandomi a quello che diceva la consigliera Lesi per dire che la terza sezione diciamo non ha bisogno di essere difesa da un avvocato però io devo dire che pur ponendomi in continuità con gli interventi precedenti ho letto con tanta attenzione questo trittico di pronunce della terza sezione che è il motivo per il quale questo convegno è stato promosso si tratta di tre pronunce due ordinanze ed una sentenza che si sono succedute molto velocemente tra la fine di febbraio la 5808 la 5490 e il 3 marzo la famigerata o comunque plurinominata 6386 e mentre oggi stavo preparando stavo organizzando il discorso ho pensato che più che partire dal cuore poi di questa sentenza che è stato già anch'esso più volte citato il decalogo che in realtà nell'interpretazione autentica del presidente Giacomo Travaglino è un terdece scalogo perché si tratta di 13 prescrizioni che la Suprema Corte fa agli operatori del diritto agli avvocati e alle strutture sanitarie come va de mecum da seguire come guida diciamo per l'allegazione probatoria e pensavo ad un decalogo molto risalente specialmente considerando la velocità dei tempi attuali e cioè al decalogo che nel 1983 il filosofo Popper Karl Popper che è stato uno dei più importanti filosofi della scienza aveva consegnato in una lezione che faceva proprio riferimento alla trasformazione della cultura dell'errore e quindi proprio indirizzandosi ai medici diceva che sostanzialmente ricevendo la lezione di Voltaire e il pensiero di Voltaire quindi è normale è umano e sbagliare però è fondamentale riconoscere gli errori per intervenire il più presto possibile al fine di contenerne i danni perché l'unico peccato veramente imperdonabile è quello di nascondere l'errore quindi ben 40 anni fa perché 1983 2023 questo decalogo preparava la strada alla giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione della terza sezione che è poi arrivata come punto di arrivo alla sentenza di cui stiamo in particolare parlando la 6386 dico punto di arrivo perché in effetti andando ad analizzare come già detto il Presidente Cisterna le precedenti pronunce ci sono tante altre sentenze che sostanzialmente dicevano la stessa cosa la 11 599 del 2020 la 17 696 del 2020 la 4864 del 2021 già attraverso tutta questa giurisprudenza consolidata di legittimità era entrata era entrato il risk management all'interno dell'obbligazione sanitaria quindi il novum di questa pronuncia di cui oggi ci stiamo occupando è l'aver dettagliato come davvero un'opera di cesello quelle che sono le caratteristiche che delineano l'esigibilità su cui si parametra la condotta della struttura sanitaria e in effetti diciamo che andando a leggere questo questo vademecum che troviamo nel terdecescalogo si tratta di un modo di indicare la strada di accendere una luce sul percorso che è atteso ma non dobbiamo pensare soltanto al processo e quindi alla fase critica in cui questa prestazione viene ad essere resa dobbiamo metterci metagiuridicamente fuori dal processo fuori dall'ospedale quando il paziente è sano ed entra all'interno di una struttura e poi quando esce ha contratto un'infezione o peggio non esce a causa del decesso che l'infezione ha determinato quindi l'argomento poi con il quale dobbiamo sempre fare riferimento mi riallaccio ai dati del del professor Fineschi io anch'io diciamo ho letto parecchie cose di recente ma in effetti più del 50% delle infezioni nosocomiali sono oggi prevenibili allora se possono essere prevenute in qualche modo devono essere evitate allora forse la Suprema Corte ci indica che per quel 50% in cui è possibile prevedere ed evitare per quel 50% noi dobbiamo tutti devono seguire quelle indicazioni questo perché non gestire il rischio o gestirlo male equivale ad un inadempimento che determina una responsabilità responsabilità che è presunta fino alla prova liberatoria e qui sicuramente mi ricollego a quello che diceva il presidente Cisterna perché anche io nel riflettere proprio su questo argomento ho ripensato al individuando notevoli similarità nella costruzione dell'onore probatorio all'articolo 2050 e quindi alle attività pericolose perché in effetti per come si configura la responsabilità in tema di infezioni nosocomiali proprio perché ci sono tutte quante queste criticità che devono essere oggetto di attenzione a delle caratteristiche sotto il profilo del criterio di prevedibilità che è un criterio oggettivo quindi il terdecescalogo è un grimaldello uno strumento che viene dato oggi in modo più chiaro a disposizione di chi vorrà utilizzarlo fidandosi di questa indicazione per predisporre nel miglior modo possibile le cure diciamo all'interno della struttura per prevenire quel 50% che può essere prevenuto perché ovviamente laddove l'infezione non poteva essere prevenuta ad esempio mi ricollego anche al tema dell'antibiotico resistenza io sono molto colpita dall'informazione che il 75% delle infezioni delle antibiotico resistenze sono contratte in ospedale quindi c'è un problema di protocolli di gestione degli antibiotici che deve essere in qualche modo attenzionato e valutato con attenzione perché quando parliamo di antibiotici non è soltanto la scelta dell'antibiotico ma anche la quantità ed anche l'indicazione rispetto allo specifico paziente che potrebbe avere delle comorbilità per cui potrebbe essere quell'antibiotico non indicato e anche la modalità di somministrazione quindi sono talmente tanti gli elementi da tenere a mente che sicuramente più le strutture riescono anche appunto attraverso questa indicazione d'altra parte l'articolo 1228 del codice civile dice che la struttura opera attraverso i suoi dipendenti e le persone che in esso lavorano quindi la novità è soltanto che sono stati indicati in modo scalare con l'indicazione dell'ex primario il direttore sanitario e così via d'altra parte un'altra notazione che mi veniva in mente oggi che tra l'altro è la giornata internazionale della gentilezza e la gentilezza delle cure è un tema etico che non può ovviamente non essere considerato la gentilezza delle cure è anche attenzione ad ogni paziente che deve essere considerato come una unità unica e irripetibile perché è una vita come diceva il presidente Cisterna magari anche di 80 anni e magari anche di 80 anni malandati ma è una vita che merita di essere preservata a qualunque costo fino all'ultimo diciamo espediente a livello di regola cautelare possibile e c'è ad esempio anche tanta giurisprudenza di merito che era abbondantemente allineata con questo orientamento anche appunto prima della 6386 io personalmente stavo rileggendo questa mattina una sentenza della Corte d'Appello di Roma che è stata pubblicata e quindi io l'ho ricevuta il 27 luglio di quest'anno ma andando a guardare mi sono resa conto che era stata la Camera di Consiglio e quindi la sentenza decisa il 28 novembre del 2022 quindi prima di questo trittico di pronunce della Suprema Corte di Cassazione e ad esempio in quella sentenza che sembra essere scritta seguendo proprio le prescrizioni del terdece scalogo che invece non era stato ancora formalmente individuato in quella sentenza la diciamo in contestazione l'unico motivo di gravame era l'errata valutazione da parte del Tribunale di primo grado delle risultanze istruttorie in punto di assolvimento dell'onere della prova a carico della struttura sanitaria convenuta ebbene in quel caso la Corte d'Appello di Roma la sezione quinta l'NRG è del 2016 il fatto di causa era ahimè del 2002 la struttura sanitaria aveva prodotto un documento che si chiamava istruzioni sulla disinfezione che era di otto anni successivo al verificarsi dell'infezione nosocomiale che era un'infezione di enterococcofecalis per un intervento di osseosintesi con placca e viti e la struttura sanitaria aveva poi depositato una dichiarazione del direttore sanitario che diceva che era consuetudinariamente già applicato quel modello di istruzioni dal 2000 senza indicare né come né dove né quando c'erano state le dichiarazioni testimoniali di direttore sanitario due medici e del caposala i quali avevano confermato che in quello specifico giorno di 16 anni prima ricordavano esattamente che tutte le procedure erano state rispettate alla lettera secondo un protocollo che non c'era all'epoca e senza la compilazione di alcun documento ecco secondo me naturalmente appunto la corte d'appello ha riformato la sentenza che ora è passata in giudicato però io credo che quando arriva una sentenza una pronuncia come quella che nel 3 marzo del 2023 la Cassazione ci ha fornito non c'è più il rischio che in alcune corti magari di provincia possano esserci delle strutture come quella di cui sto riferendo nella quale la struttura sanitaria era stata ritenuta irresponsabile pur non avendo fornito alcuna prova liberatoria e a proposito della prova liberatoria mi avvio verso la conclusione la 5490 l'ordinanza del 2023 richiama l'attenzione sul combinato disposto degli articoli 2727 e 2729 proprio censurando la corte d'appello di Torino perché aveva affermato l'irresponsabilità della struttura sanitaria per sulla base di prove presuntive che non erano né gravi né precise né concordanti quindi diciamo che ci sono tantissimi elementi che attraverso queste pronunce sono messi sul tavolo degli operatori sul tavolo degli avvocati dei giudici ma anche dei medici legali delle strutture e dei pazienti per poter fare la cosa giusta perché in realtà il tema è proprio quello di fare la cosa giusta da tutte le parti per cercare di dare alla vita il valore che essa ha un valore che è irrinunciabile sempre e in ogni caso e allora ci sono sicuramente delle strutture di eccellenza strutture sanitarie che si staccano in un modo molto più che significativo rispetto alla media quindi in meglio come eccellenze però purtroppo ce ne sono tante che invece si staccano dalla media della esigibilità attesa in senso peggiorativo e questo bisogna riconoscerlo allora è chiaro che quando il professor Fineschi diciamo parla dei suoi protocolli e delle sue procedure fa una lezione magistrale però quando poi il paziente un quisque de popolo si trova anziano malato a morire senza che sia stata presa la minima cautela la minima precauzione che invece era esigibile qui è l'etica ricordiamo Popper l'errore umano ma va assolutamente censito va fermato perché bisogna che tutti abbiano lo stesso diritto di accesso alle cure e lo stesso diritto alla tutela dell'integrità personale che nel nostro ordinamento sono costituzionalmente garantiti e che la Corte anche dei diritti dell'uomo garantisce in un modo incontestabile quindi mi avvio alla conclusione dobbiamo considerare anche il principio di ragionevolezza che diciamo nel contesto specifico si lega al principio della vicinanza della prova perché la prova deve essere fornita dalla struttura sanitaria perché non si può chiedere all'avvocato del paziente o al parente del paziente o al paziente stesso qual era il ferro chirurgico che non era stato disinfettato e allora è per questo che ha diciamo un suo senso l'attenuazione della razio cioè la razio è questa dell'attenuazione del principio di colpevolezza che è un principio altrimenti fondante della responsabilità quindi il pensare alle responsabilità speciali e in particolare all'articolo 2050 ci consente anche di comprendere perché c'è questa tecnica normativa della prova liberatoria adesso lascio lo spazio agli altri relatori ringraziamo l'avvocato Toppetti sempre per la puntualità dei suoi interventi precisione e anche per la sensibilità con la quale espone queste problematiche poi anche un po' difeso il presidente quindi abbiamo ripristinato un po' di equilibrio di buoni rapporti ora diamo la parola al dottor Giorgio Marcelli che è il direttore della struttura dipartimentale di medicina legale dell'azienda ospedaliera San Capillo Forlanini e presente il comitato valutazione sinistri su infezioni correlate all'assistenza linee guida della regione Lazio grazie ringrazio il consiglio dell'ordine dell'iniziativa sicuramente bellissima c'è un piccolo scambio di identità con il professor Finischi è sempre lui io sono di qua ci siamo chiedo scusa ma purtroppo le mie slide non si sa per quale motivo forse sono scandalose non riescono a essere proiettate quindi le commenterò diciamo brevemente nel tempo di un quarto d'ora massimo 20 minuti si è fatto cenno appunto al documento regionale del PARS questo documento è un documento di rischio che viene come dire prodotto dalle aziende sanitarie entro febbraio entro il 28 febbraio dell'anno successivo quindi il documento del 2023 riguarda le attività del PARS che sono state elaborate nel 2022 delle strutture sanitarie quello che ci interessa è che in questo documento del PARS gli obiettivi per la gestione del rischio infettivo sono citati ma sono obiettivi di cui praticamente va la diciamo la gestione va in capo al direttore sanitario tant'è vero che vengono declinate diciamo in questo documento le attività e le gestioni che deve fare l'azienda sanitaria e poi il documento vero e proprio diciamo su indirizzo delle pratiche cliniche che riguardano che sono colorate all'assistenza vengono declinate in un documento a parte nell'introduzione ovviamente questi documenti sono declinati in tutta una serie di paragrafi che non proietto ma vi commento proprio diciamo in maniera molto molto sintetica nell'introduzione di questo documento specifico che riguarda il rischio effettivo inizia dicendo che appunto tutte le IGA non sono prevedibili e una recente diciamo e quindi questo è l'ingresso del documento una revisione della letteratura dal 2005 al 2016 ci ha rilevato che dal 35 quindi la forbice che prima mi chiedeva l'avvocato Toppetti tra il 35 e il 55 per cento delle IGA sono prevedibili solo attraverso interventi multidisciplinari ovviamente quindi sono interventi multidisciplinari gli obiettivi del documento sono quelli che sostanzialmente ha già declinato il professor Fileschi e i modelli diciamo di integrazione sono quindi la dimensione strutturale tecnologica la dimensione professionale quella organizzativa che sostanzialmente convergono sulla qualità della prestazione che poi la azienda la struttura sanitaria eroga per quanto riguarda quindi la correlazione con le infezioni non c'è da dire altro che è una complessità organizzativa quindi su questo punto di vista nel documento le strutture vengono erogate come regime di ricovero ospedaliero di un notturno H24 nelle strutture che erogano anche un servizio riabilitativo e in quelle che sono diciamo residenziali e semiresidenziali in tutti questi in tutte queste strutture o stabilimenti come si usa dire ogni categoria ha declinato appunto quelli che sono i ruoli gli organismi le attività di sorveglianza le attività di informazione le evidenze documentali è stato accennato non ci torno sopra sul rapporto Med-Mal della Marsh che ha diciamo caratterizzato l'incidenza il costo sia in termini di maggiore degenza ma sia anche in termini di sinistri legati alle infezioni ospedaliere è stato già detto sui costi per quanto riguarda un lavoro che è stato fatto invece sul tribunale di Roma ci sono state diciamo sono state analizzate 1117 sentenze e su questi diciamo in relazione a un pregiudizio lamentato come conseguenza dell'infezione nel 67,9% dei casi si è trattato di lesioni e nel 32% di decessi una curiosità che non posso diciamo proiettare ma ve la commento è che nelle diciamo strutture sanitarie oltreoceano negli USA per dire per quanto riguarda le best practice e la copertura assicurativa ci sono una serie di diciamo eventi avversi diciamoli così che non sono diciamo rimborsabili dall'assicurazione non sono neanche assicurabili tra queste ci sono ovviamente gli oggetti lasciati tipo le garze laparotomiche o strumentario chirurgico l'embolia l'embolia aerea l'embolia aerea le infezioni associate ai cateteri le lesioni le pressioni le lesioni le ulcere da pressione la mediastinite per dire l'infezione del sito chirurgico specialmente la mediastinite perché ha un alto tasso di mortalità e lo scambio ovviamente di lato o le trombosi venose profonde queste queste categorie diciamo elencate sono non sono rimborsabili a livello assicurativo e ne sono assicurabili in queste strutture sanitarie cioè non le prendono in considerazione le assicurazioni ovviamente è stato detto anche dei bandere quindi è inutile che ci torno sopra ma quello che voglio dire da un punto di vista un po' più diciamo medico-legale dell'applicazione è che in questo caso all'interno delle strutture sanitarie per quanto riguarda le infezioni correlate all'assistenza quello che c'è da considerare principalmente è la corretta valutazione del rischio sostanzialmente ora è chiaro che i rischi sono molto più alti in una terapia intensiva piuttosto che nell'emodialisi nei reparti di ustionati o tutti i reparti dove si fanno procedure invasive ci sono i rischi moderati che sono nel travaglio nella sala travaglio o negli ambulatori e nei reparti di emergenza è un rischio molto basso che riguarda appunto anche le aree di lavanderia le aree per i trattamenti non invasivi le aree tecniche e via discorrendo abbiamo anche detto quale sono diciamo è stato anche detto quale sono diciamo le persone interessate le figure interessate apicali piramidali che sono coinvolte nelle responsabilità per quanto riguarda le infezioni però per esempio la pulizia degli ambienti e attività di monitoraggio ambientale a cui viene dato particolarmente rilievo anche proprio in questo documento quindi monitoraggio di aria acqua e superfici sostanzialmente non parlo di disinfezione che va fatta ma di monitoraggio sostanzialmente tranne il caso della legionella che non ci deve assolutamente essere non è allo stato indicato come un'indagine rutinaria che è finalizzata a certificare la salubrità dell'ambiente questo è quanto ci dice la letteratura andando nello specifico che è la parte un pochino che più interessa l'aspetto medico legale di questo di questo documento si riallaccia per quanto riguarda il quesito di cui già si è parlato che normalmente viene adesso formulato nella tredicesima sezione che prende esattamente lo spunto dalla sentenza della Cassazione di cui stiamo parlando fondamentalmente il quesito del medico legale è un quesito che preso così come è diciamo declinato nella sentenza della Corte di Cassazione viene riassunto in una valutazione sostanzialmente protocollare viene riassunto in una valutazione che deve riguardare le direttive cioè il medico legale deve accertare la mancanza o l'insufficienza di direttive generali il mancato rispetto delle direttive adeguate o diffuse o di ammessa informazione e il ricovero diciamo se non è sorretto da esigenze di diagnosi o associato a un trattamento non appropriato che francamente fa pensare diciamo se uno non ha esigenze di diagnosi e di trattamento non si capisce perché deve stare dentro un ospedale insomma però questo è diciamo così formulato in questo modo e quindi non è che uno prende e porta le persone in ospedale comunque la Corte diciamo formula questa attività in capo diciamo di indagini in capo all'attività medico legale tutto quanto questo se andiamo a vedere riguarda diciamo l'accertamento del nesso causale materiale delle infezioni questo è un nesso sicuramente multifattoriale è stato detto lo sappiamo cioè lo sappiamo noi a maggior ragione lo sanno diciamo i giuristi che in base diciamo all'attuale orientamento anche una concausa che possa aver inciso nell'1% nella determinazione del danno sia poi come dire integra praticamente quello che è rapporto causale però questa sentenza o quantomeno l'applicazione di questa sentenza dà l'impressione di uno svelenciamento dell'attenzione della Corte sullo scrutinio formale dei prodirolli di profilassi di tipo organizzativo ritenuti rilevanti quali fattori causali rispetto agli altri fattori intrinseci al paziente che sono sicuramente le condizioni predisponenti che molto condizionano allo sviluppo il decorso e gli esiti di un'infezione correlata all'assistenza non dobbiamo infatti dimenticare che la suscettibilità del paziente delle tali immunocompetenza le patologie concomitanti sono quelle che poi determinano diciamo l'esito anche sfavorevole di una di un'infezione contratta in un ambito ospedaliero ora nulla dice e poco si vede almeno per quanto mi riguarda nelle consulenze d'ufficio o nelle quali io intervengo o come consulente d'ufficio o quando come consulente di parte sugli strumenti che pure esistono in letteratura per valutare per dire alcune predizioni da quanto riguarda le infezioni nosocomiali dei pazienti che hanno subito dei traumi ci sono delle predizioni di rischio in pazienti che hanno poi acquisito per dire un'infezione sia nosocomiale che non nosocomiale e ci sono degli score per dire proprio che sì da li quali è possibile stabilire quale possibilità di sviluppo un paziente che viene ricoverato ospedalizzato ha di sviluppare un'infezione la combinazione di questi per dire l'APASH 2 il SOFALOD eccetera danno la possibilità di valutare questo rischio già all'ammissione è chiaro che questo dovrebbe essere come diceva il professor Fineschi e come è previsto anche nel documento di indirizzo della regione deve essere documentato nella cartella cioè nella formazione altro aspetto importante che andiamo facendo diciamo nelle nostre strutture sanitarie molto si insiste su questo cioè nel famoso fascicolo delle infezioni a cui si faceva riferimento vanno sì messi tutti quanti i protocolli vanno sì come dire ma quello è relativamente facile perché sono diciamo tutte attività già codificate quello che non viene fatto invece è la valutazione di quel paziente di quel caso concreto di quella situazione e oggi diciamo l'applicazione di questi score consente in realtà di avvicinarsi a che cosa serve questo serve perché chiaramente la causalità in medicina diciamo sta rivoluzionando anche per quanto riguarda i fattori di rischio e l'incidenza dei fattori di rischio non c'è più diciamo la determinazione assoluta tra la malattia per dire l'agente infettivo si infezione si infezione no ci sono falsi positivi falsi negativi reazioni diciamo individuali del soggetto che portano diciamo hanno sviluppato anche una visione intermedia che riguarda le malattie infettive quindi esistono dei veri positivi dei falsi positivi e dei veri negativi ma anche appunto falsi positivi quindi tutto questo va rivisto ora per diciamo quindi per la valutazione del rischio dovrebbe essere probabilmente configurata in maniera forse più dettagliata nell'ambito del quesito che viene posto al consulente d'ufficio perché altrimenti se noi abbiamo una violazione che non è così diciamo infrequente o difficile incorrere in una violazione protocollare per quanto riguarda uno come dire dei decalo che sono stati proposti nei quesiti anche dalla Corte di Cassazione però la diciamo la determinazione del rischio dovrebbe fatta in questo modo consentire poi al giudice appunto come diceva la Presidente Cisterna nella fase risarcitoria del danno calibrare meglio per dare il peso specifico cioè l'incidenza reale che può avere un fattore intrinseco del soggetto nell'acquisire ma anche nel difendersi dalla infezione contratta rispetto per dire al fatto che magari uno non è riuscito a dimostrare il protocollo del trasferimento della biancheria perché ha preso l'ascensore per i puliti piuttosto che per lo sporco per dire chiaramente hanno una rilevanza causale estremamente diciamo diverso un peso causale estremamente diverso e quindi io focalizzerei diciamo possibilmente nel futuro sempre in un confronto in una dialettica utile diciamo tra giuristi avvocati magistrati medici legali e consulenti specialisti proprio l'utilizzo di questi criteri che possono in qualche modo disegnare un perimetro in quel caso concreto molto più diciamo scientificamente aderente alla realtà e alla rispondenza diciamo scientifica del fenomeno e mi dispiace che non sono non ho potuto diciamo ovviamente proiettare le slide ma insomma sostanzialmente le cose poi i commenti erano questi vorrei concludere quindi avendo spero rispettato il tempo che mi è stato concesso con una diciamo citazione di Claude Bernard che appunto era il padre della fisiologia della della scienza della fisiologia che è la base poi di tutte le altre conoscenze che la verità scientifica è una linea immaginaria che divide l'errore in due parti quella parte che sappiamo non essere vera e quella che ancora crediamo tale questo era diciamo quello che potevo immaginare grazie grazie dottor Giorgio Marcelli per averci portato la sua esperienza e mi dispiace per le slide ma ci sarà sicuramente altra occasione io do la parola subito al dottor Riccardo Olivieri anche per rimanere nei tempi e non sforare così che tutti possano seguire la lezione di oggi grazie grazie come si aprono? allora intanto che mi risolvono il problemino tecnico buon poveriggio a tutti ringrazio l'ordine degli avvocati nella persona dell'avvocata Lesi la dottoressa Topetti che mi ha gentilmente invitato e ovviamente il tribunale visto l'austerità dell'aula in cui siamo e della platea a cui mi rivolgo mi presento rapidamente io sono il dottor Oliglievi non sono il risk manager del San Giovanni mi occupo di risk management del San Giovanni ho un'esperienza di direttore sanitario di ospedale lunga e mi sono occupato per tantissimi anni ancora adesso di certificazione qualità e quindi tutte quelle attività che dovrebbero portare all'ottimizzazione dei processi erogatrici dell'attività ospedaliera ovviamente non sempre riuscendoci questo purtroppo è un problema che abbiamo il tema che mi è stato dato è quello della tracciabilità dei processi e parto dal top di gamma la definizione di processo nella normativa ISO che è la normativa tecnica che codifica i livelli di eccellenza massimi a livello mondiale di qualunque tipo di organizzazione sia che produca beni sia che eroghi servizi definisce il processo come tutta quell'attività che trasforma qualcosa che entra in qualcosa che esce ovviamente tutto questo passaggio cioè il processo è un'attività sequenziale con fasi anche interferenti e incidenti che possono ovviamente essere agevolanti in qualche caso invece purtroppo incidentali e ovviamente ognuno di questi passaggi fasi e sequenze richiede la figura di qualcuno che la sorrentenda che coordini diriga governi o comunque mandi avanti i processi in maniera da che si passi alla fase successiva senza incidenti ovviamente è un'azienda ottimale il percorso avviene appunto senza intoppi e quindi il prodotto finale è erogato come ci si aspetta tracciabilità è un concetto che spesso e volete viene confuso perché la rintracciabilità che tutti abbiamo chiara in testa è tornare indietro per arrivare a qualcosa che all'inizio ha provocato un qualche cosa che poi è l'evento che vediamo la rintracciabilità degli eventi avversi è proprio la ricerca della causa remota la causa a monte che ha provocato il danno che è poi quello che effettivamente constatiamo la tracciabilità invece qui l'ho usato la similitudine diciamo le frecce tricolori è seguire la scia colorata dagli aeroplani per andare a raggiungere l'aereo lì dove è finito e nelle attività industriali quindi la tracciabilità è l'accettazione del materiale delle materie prime possibilmente ottimali di qualità perché vengano lavorate dal sito industriale che poi le trasforma le lavora e produce l'articolo finale che immette sul mercato ovviamente se la materia prima è di qualità e la lavorazione è fatta secondo le procedure le conformità attese il prodotto finale dovrebbe essere un top di gamma e quindi avere un successo sul mercato il problema dell'ospedale però è purtroppo dispiace dirlo è che noi lavoriamo sostanzialmente al contrario cioè i prodotti in entrata non sono affatto prodotti di qualità sono prodotti fortemente danneggiati cioè i pazienti chi arriva in ospedale è o traumatizzato quindi rotto scusate il termine poco etico ma chiarisce sicuramente il concetto oppure affetto da una patologia cronico-degenerativa che di per sé per definizione è inguaribile è curabile nel senso che è gestibile trattabile il paziente può essere in qualche modo stabilizzato potenzialmente migliorato ma comunque quando viene tra virgolette reimmesso sul mercato cioè dimesso chiaramente la situazione non è certamente un prodotto di massima qualità attenzione perché dagli anni 80 dall'università di Yale è partita una ricerca molto interessante che è poi quella che ha portato sostanzialmente a sviluppare il sistema di RG che è il sistema di remunerazione delle prestazioni ospedaliere e secondo questo modello sostanzialmente l'ospedale assimilato a un sito industriale è un sito che per il codice ancora è considerato un sito civile un insediamento civile ma che in realtà per la sofisticazione delle tecnologie che possiede e per la qualificazione professionale degli operatori è a tutti gli effetti un sito industriale se non altro per i costi è un sito che produce dimissioni cioè l'obiettivo dell'ospedale è far uscire i pazienti all'ospedale possibilmente vivi possibilmente meglio di come siano entrati riesce sempre e mica tanto credo ad esempio tra le tante una delle sentenze più recenti credo che il giudice sia anche qua in aula per averlo visto prima dove giustamente quando pone il quesito al CTU chiede che venga valutata l'adeguata condotta della struttura ospedaliera nella gestione del caso clinico in oggetto soprattutto per quanto riguarda parlo del mio settore le procedure di sanificazione cioè di gestione in sicurezza del ricovero del paziente visto anche il fatto che poi appunto sappiamo che una quota parte di queste infezioni di fatto non siano effettivamente evitabili ma il giudice in questo caso ma ormai è un dato comune non solo chiede che i protocolli siano effettivamente applicati quindi non che esistano ma che siano concretamente attuati ma soprattutto chiede la verifica delle prescrizioni impartite come a dire c'è un protocollo benissimo c'è un'attuazione benissimo c'è qualcuno che controlla che queste prescrizioni siano state operativamente adottate c'è qualcuno che registra i dati e quindi c'è la prova approvata che il fatto che tutto questo percorso il processo sia stato portato a termine nel dovuto modo tant'è che aggiunge una postilla che è segnata in blu come i tempi della scuola cioè quello che è rossa è grave quello che è in blu è gravissimo gravissimo dalla parte del direttore ospedaliero cioè dalla parte mia dove dice che non è considerata risposta udita quella che dica che esiste il protocollo che ha adottato la delibera il provvedimento quello che volete ma deve essere data documentazione idonea alla verificabilità in concreto dell'effettiva applicazione di quantosure e qui comincia il dramma perché uso una metafora calcistica nelle strutture sanitarie italiane che già di per sé non sono assolutamente equivalenti sul territorio nazionale anche perché purtroppo scontiamo 21 servizi sanitari regionali e ci siamo dimenticati il servizio sanitario nazionale unico che forse era centralistico se non altro dava direttive comuni a tutti quanti forse gestirà un po' meglio se non altro aspetto puramente organizzativo anche nelle strutture più avanzate spesso e volentieri hanno sviluppato sistemi di accreditamento molto avanzati di grande qualità dove effettivamente le componenti della struttura quindi le competenze sono elevate e quindi l'efficienza dal punto di vista delle dotazioni è più che adeguata come dire in squadra c'è un ottimo portiere degli ottimi difensori degli ottimi attaccanti benissimo la domanda è ma la partita la vinco? è già tanto se dico gioco bene perché ovviamente il risultato non può essere assicurato perché la medicina per definizione è scienza di mezzi non di risultati le certificazioni invece ragione in un altro termine vanno a vedere i risultati nel senso che se hai raggiunto o no gli obiettivi che ti sei posto quali sono gli obiettivi per i pazienti è chiarissimo quali siano per la struttura non sono così tanto chiari quanto si creda ma comunque il concetto è quello per quanto abbia ottimi giocatori la struttura funziona se gioca bene non dico se garantisce la vittoria perché questo non è possibile però se gioca bene questo significa che l'ospedale vista che sussista di fatto un'inversione dell'onera della prova anche ammesso che esistano infezioni prevedibili per quanto è prevenibili ovviamente bisogna sempre dimostrare che per quanto siamo stati bravi meticolosi puntuali attenti l'infezione che si è sviluppata è fuori del campo delle capacità contenitive di qualunque struttura di altissimo livello e quindi ci si tratta di provare la prova è di scolpa di fatto ragionando sui numeri è stato già presentato qualche dato faccio vedere due flash velocissimi questo è uno studio dell'Istituto Superiore di Sanità che è l'organo massimo consultivo scientifico tecnico scientifico nazionale che nel 2006 scrive i dati che sostanzialmente il professor Finischi che ha fatto già vedere e qui parliamo di circa un 30% di infezioni potenzialmente prevenibili dato che letta al contrario significa che il 70% non lo sarebbero dieci anni dopo sempre l'Istituto Superiore di Sanità con una ricerca sviluppata a livello nazionale nel 2016 circa dai dati che il professor Finischi ha fatto vedere prima e questi sono gli stessi dati che vengono pubblicati attualmente su Epicentro che è il bollettino diciamo di informazione dell'Istituto Superiore di Sanità aggiornati questa è aggiornata dal 2021 poi non è stato più aggiornato perché studi a livello nazionale puntuali di prevalenza non sono più stati fatti e qui emergono i germi di cui abbiamo parlato e c'è il problema grande dell'antibiotico resistenza dove sostanzialmente riassumendo i dati per non perdere troppo tempo a parte il fatto che nei paesi sviluppati tra cui il nostro ogni 100 ricordati 7 contrari con l'infezione va detto che circa 1 su 10 decede per l'infezione o come causa diretta o come con causa dell'infezione ma soprattutto che un paziente su 3 risulta essere antibiotico resistente e questo è un problema enorme perché noi gli antibiotici di nuova nuovissima generazione non ce l'abbiamo stiamo temendo l'esplosione del cosiddetto super batterio che sarà devastante il covid è forse una pseudo anticipazione non entra nel merito se il covid sia naturale sia sintetico sia un prodotto di fabbrica un'arma biologica quello che sia sia ma è un primo approccio al fatto che un virus conosciutissimo come il coronavirus ha provocato una malattia devastante in gravità e quantità assolutamente non prevedibile non controllabile contro la quale strumenti di lavoro erano assolutamente zero e quindi siamo andati per tentativi per tentativi con un impatto bestiale sulle attività ospedaliere problemi sugli stessi operatori sanitari alcuni di quali purtroppo bisogna ricordare che ci hanno anche rimesso la vita e con effetti devastanti e stiamo in attesa come dice purtroppo l'OMS ciclicamente in attesa di nuove epidemie pandemiche contro le quali gli strumenti che abbiamo a disposizione sono pochissimi l'ultimo antibiotico di qualità è la vancomicina che risale circa 15 anni fa ormai e vi ricordo che una decina di anni fa l'OMS lanciò un allarme contro l'uso sconsiderato sconsiderato l'uso ampliato di vancomicina per paura che si potessero sviluppare da qui a poco germi vancomicina resistenti perché se questo succede non abbiamo più strumenti di difesa dalle infezioni ovviamente considerando che le infezioni ospedaliere agiscono su pazienti quindi su ripeto prodotti che arrivano in ospedale già danneggiati e ciò che è rotto se si infetta ovviamente ha un esito infelice nella maggior parte dei casi e poi c'è la sentenza della cassazione che io chiamo lista della spesa nel senso letterale del termine perché qualunque buco di sistema dell'azienda ospedaliere si trasforma in una spesa cioè nel risarcimento del danno da parte dell'ospedale ho segnali in rosso gli elementi a mio giudizio critici perché quando si parla di adozione attuazione procedure istruzioni bisogna dare dimostrazione concreta dell'effettiva applicazione dimostrabile di quanto è stato messo in atto esiste un problema enorme attuale della dimostrazione tecnica dell'effettivo lavaggio delle mani da parte degli operatori sempre una cosa banale quasi da scuola elementare ma è difficilissimo poter dimostrare puntualmente che l'operatore lo staff l'equip quel giorno si è lavato le mani al dovuto modo con il disinfettante giusto per la tempistica giusta nel momento prima di entrare in sala senza toccare altri strumenti perché qui arriviamo a livello di videoregistrazione che poi non avrebbe nessun significato e tra l'altro comporterebbe problematiche enormi di privacy di gestione della documentazione archiviazione della documentazione eccetera eccetera e poi segnare in rosso gli ultimi due punti perché gli altri li considero in parte tecnicamente dimostrabili grazie a misure di misurazione controllo strutturale impiantistico tecnico si possono raccogliere dei dati positivi in questo caso ma le ultime due sono quelle terrificanti la penultima perché stiamo andando verso una situazione che fino a qualche giorno fa è redefinito drammatica nel rapporto operatore paziente e che oggi definirei tragica perché stiamo assistendo a una fuga di medici che già conosciamo da diversi anni ma adesso c'è una fuga di infermieri che sarà un problema enorme con scuole di formazione che producono un fabbisogno di nuovi operatori decisamente inferiore alle aspettative e quindi tra qualche anno avremo problemi enormi soprattutto nel settore chirurgico perché nessuno più fa chirurgia e poi la problematica la pianificazione e monitoraggio in continuo delle attività previste monitoraggio in continuo significa che per uno che lavora c'è qualcuno che lo controlla continuativamente abbiamo difficoltà a vedere quello che lavora immaginate quello che controlla oltretutto che cosa è che documenta che traccia il processo nel 90% dei casi la cartella clinica documento probatorio per definizione documento nel quale però se va bene nelle strutture valide ben organizzate e operative troviamo quello che ho messo in elenco nella slide questi sono documenti che normalmente troviamo che tracciano certamente una capacità di attenzione al paziente una capacità di valutazione delle sue condizioni di ingresso e nel durante del ricovero ma certamente non danno una documentazione puntuale dello stato del paziente rispetto al potenziale rischio infettivo il ministero della salute definisce le infezioni corrali stenza ponendole tra indicatori di efficienza e qualità ma qui in realtà poi quando parla di esito o cioè il numero di casi di infezioni per mille in realtà questo è un indicatore di efficacia dove dà dei profili di responsabilità agli organi di governo che sono il comitato dell'infezione ospedaliere e il gruppo creativo di controllo come ha detto giustamente il professor Fineschi è passato da una funzione tecnico-consultiva a una funzione di monitoraggio e controllo operativo ovviamente anche qui con il problema delle risorse potenzialmente impiegabili effettivamente impiegabili che porterebbe poi a determinare la sviluppo di procedure interne all'ospedale per dare le regole di funzionamento del sistema non entro nell'elencazione dei sistemi sapete tutti cosa sono le linee guida perché ormai sono patrimonio comune vorrei fare un piccolo appunto su ciò che sono le procedure sono regole interne all'ospedale costruite da gruppi di lavoro formati all'interno dello stesso ospedale tra le persone più competenti nel settore che mettono giù una regola un'attività normata che poi è quella che deve essere formalmente adottata e diventa quindi appunto procedura aziendale procedura che dovrebbe specificare secondo i modelli di ISO di qualità di certificazione il cosiddetto processo diviso per fasi sequenziate ognuna delle quali risponde alle sei domande chi fa che cosa dove quando come perché che in inglesi parlano le 5 w e là è un h che è la traduzione dei sei item quindi ogni fase dove prevedere un coordinamento una gestione un passaggio creativo il concetto sostanzialale è quello che io che gestisco una fase devo ricevere da chi mi precede il pacchetto chiamiamolo così fatto in un certo modo lo devo gestire in un certo modo e consegnarlo a chi mi succede in quel modo che è previsto dalla procedura il problema è che quando abbiamo migliaia di linee guida alcune delle quali ufficialmente riconosciute e vi ricordo che il problema di linee guida nazionale è un problema che si è bloccato perché era stato previsto dalla legge Gelli che esistesse un sistema nazionale di linee guida che ne ha prodotte fino adesso un centinaio circa non certamente esaurienti 97 87 97 ho detto centinaio mi sono allargato insomma sono stato buono dopodiché esistono ovviamente linee guida internazionali ma che sono adottate ragionate applicate o applicabili in contesti spesso molto diversi perché un conto è l'ospedale israeliano un conto è l'ente pubblico americano un conto è l'ospedale svedese e poi ci stanno gli ospedali del resto del mondo e quindi qui ho preso una frase da X-Man non c'entra niente ma mi piace fare queste citazioni dove la Scarlett il personaggio che è la vedova nera che dice tutti leggiamo i libri ma non li leggiamo mai a alta voce per cui alla fine a volte le cose le sappiamo ma non le facciamo e questo è il problema principale questa è quella che tecnicamente si chiama piramide alla qualità anche se mio figlio giustamente non ha detto questo è un triangolo non è una piramide allora tolto la parte la punta che è la parte di eccellenza il documento di politica qualità qualunque azienda italiana mediamente ormai diciamo negli ultimi 10-15 anni ormai ha il documento atto aziendale che è l'inquadramento giuridico diciamo della struttura aziendale ha certamente regolamenti e procedure parlo anche del versante amministrativo non solo quello clinico-tecnico-sanitario in molti casi ha molti protocolli istruzioni operative anche quantità industriali quello che è l'elemento critico è la base cioè quella parte che vedete in rosso che si chiamano documenti di registrazione in quali tese si chiamano evidenze l'evidenza significa avere riscontro documentale prova provata che tutto quello che c'è sopra è effettivamente applicato attuato e dimostrato dimostrabile c'è sempre mica tanto qui dobbiamo arrivare ai controlli fatti con meccanismi di schedulizzazione possiamo arrivare a fare checklist per qualunque attività considerate che compriamo una checklist a volte richiede anche un minuto ma comunque gli operatori sono nella quantità che sappiamo lavorano con i ritmi che sappiamo e non è sempre detto che il documento prodotto sia ineccepibile d'altra parte quello che conta soprattutto se a diversi anni da quando è avvenuto l'evento cosa che avviene normalmente nelle aule dei tribunali perché si discutono cause anche dopo dieci anni chiaramente la memoria degli operatori è quella che è e quindi le tracce sono quelle che abbiamo lasciato come dice il SIU qui nella rappresentato le procedure di istruzione quindi devono essere comprese applicate e verificate qui non so non credo che parta il video comunque questo ve lo racconto brevemente è uno scherzo è un video del dottor House che si sta meravigliando perché ha di fronte alla paziente asmatica che nonostante le terapie che lui ha prescritto non migliora gli ha fornito l'inanatore ma non vede i risultati clinici rilevanti allora viene il dubbio dice forse la signora usa l'inanatore in una materia non idonea la signora offesissima risponde lei pensa che io sia un idiota gli prende l'inanatore e gli fa vedere che se lo passa sotto le ascelle allora è chiaro che l'istruzione è in funzione anche di chi la recepisce dall'altra parte come diceva Troisi io sono responsabile di quello che dico non sono responsabile di quello che hai capito tu grazie grazie dottor Riccardo Olivieri che ci ha messo insomma un po' in mostra anche luce d'ombre del nostro sistema sanitario e dove come poter andare a correggere eventualmente per poter diciamo assumere delle condotte virtuose e evitare anche il contenzioso ma io vorrei insomma siamo tutti credo d'accordo se c'è un qualche domanda o necessità di approfondimento i nostri relatori sono ancora qui ci fanno la cortesia di rimanere qualche minuto a disposizione e se qualcuno io vedo volevo invitare la dottoressa Cristina Matranga che è il direttore generale dell'as dell'as laziale di Civitavecchia che vedo interessata l'avevo prima in qualche modo intercettata probabilmente lei vuole fare domande o anche riflessioni o anche portare la sua esperienza personale grazie grazie a tutti grazie avvocata lesi una bellissima iniziativa ho ascoltato tutti con grande attenzione e diciamo vabbè mi fa piacere condividere il punto di vista insomma di un direttore generale e noi ci stiamo provando a mettere in piedi scusate io parlo in piedi perché sono abituata a parlare in piedi lo preferisco sempre noi ci stiamo provando a mettere in piedi insomma un sistema di controllo però già da qualche mese che ci stiamo lavorando però devo dire che ovviamente insomma le difficoltà sono tantissime e ha ragione l'ultimo relatore nell'evidenziare che la cosa che a me mi sciocca di questi 13 punti è la lettera M perché la lettera M dice sostanzialmente la possibilità di provare in ogni momento rispetto ad ogni paziente di aver sostituito le unità di trattamento dell'aria di aver pulito quella sala operatoria con quelle determinate modalità eccetera quindi quella è veramente il come dire il punto sul quale secondo me si è destinati a cadere un po' poi gli altri punti forse oggi è anche possibile io credo provare a costruire qualcosa mi viene in mente che oggi come oggi tutti gli appalti di pulizie di lavanolo di ristorazione hanno con sé portano con sé dei sistemi informatici di controllo di monitoraggio delle vere e proprie piattaforme che se alimentate correttamente consentono effettivamente di tracciare la prestazione quando è stata eseguita con quale modalità è stata eseguita però poi ci sono tutta un'altra serie come per esempio il rapporto tra personale operatori medici infermieri eccetera allora diciamo la mia domanda è fermo restando che ripeto noi ci stiamo provando e insomma ce la stiamo veramente mettendo tutta però la mia domanda è se a questo punto stando così le cose almeno sul tema delle Ica insomma delle infezioni correlate all'assistenza non sarebbe più onesto andare verso un sistema indennitario più che risarcitorio e quindi insomma ecco sì no fault in modo che questo è vero che diciamo questo anche un po' la valenza di responsabilizzarci tutti di richiamare l'attenzione dei direttori io ultimamente partecipo sempre ai Cicciica credo che diciamo questo sia già di per sé un risultato perché un direttore generale che si preoccupa di convocare e presiedere il Cicciica è sicuramente tanto insomma però poi anche anche un direttore generale insomma ha i suoi guai quindi ecco mi chiedo se non sarebbe allora più onesto e anche più forse sì più onesto anche anche forse più più economico insomma se consideriamo gli oneri legati a questa partita e virare insomma su un sistema francamente indennitario e ecco credo che che forse potrebbe essere la cosa più più giusta detto questo ovviamente noi continueremo a fare del nostro meglio insomma e non che questo voglio insomma lavarmi nelle mani però mi chiedo a volte quanto senso abbia insomma grazie la direttrice Cristina Matranga non so se il presidente Cisterna al professor Finischi chi è che vuole rispondere a questa domanda non è facile perché i sistemi non foltono senza indennitari diciamo pongono un problema di responsabilizzazione ulteriore cioè c'è un circuito di responsabilità politico-amministrativa per cui a fine anno si cambia tutti perché si è sbagliato e quindi ha un senso altrimenti si perde di vista la funzione del risarcimento che è anche una funzione tra virgolette di deterrenza cioè è lì e la Gelli questo prevede laddove poi concepisce l'azione di rivalza e quant'altro cioè immagino un sistema in cui il risarcimento del danno è un po' un elemento di performante di per sé perché l'indennizzo pone secondo me un problema contrario è una discussione guardi dottoressa Matranga vecchia cioè quando si parlava dell'assicurazione obbligatoria dei mezzi si diceva si disse tutti cammineranno come vogliono tanto sono assicurati per cui gli incidenti non li vorrà pagare nessuno poi si sono introdotti correttivi giusti e anche lì col bonus malus che sarebbe che è poi una via una via di uscita la seconda questione è che manca oggettivamente nessuno lo tira fuori il dato nessuno l'incidenza percentuale su un reparto su una struttura delle infezioni in quel periodo cioè se c'è un caso il caso diventa controvertibile se ce ne sono dieci diventa meno controvertibile se per ora manca la prova ognuno vale 100 è inutile che si discute il processo non è il luogo dei macronumeri è il luogo del singolo caso se quel paziente si è infettato ha avuto un esito negativo in fausto un exitus negativo ovviamente mortale il problema è che lì si analizza allora o si creano leggi scientifiche quello che diciamo tante volte il professor Fineschi cioè modelli che poi il giudice deve importare nel processo è tenerne conto incidenze statistiche frequenze indicazioni oggettive oppure effettivamente non avendo uno spettro dei casi e del ripetersi dei casi quel caso è l'unico che si deve decidere ed è rispetto a quello che si applica la sentenza si applica tutto quello che la giudice pensi ha elaborato credo che torniamo al problema sempre delle indicazioni in temi di leggi scientifiche di esperienze indicazioni molto agevoli anche il professore mi sembra di aver capito se volesse dire qualcosa perché la dottoressa Matranga ha sollevato un problema interessante l'indenitario quando abbiamo proposto per il macro danno ad esempio anche per le sofferenze neonatali la cosa che è emersa subito è che sarà difficile poter trovare a livello nazionale una copertura economica un ombrello di questo tipo si pensi solo a chi l'ha adottato in Europa la Danimarca la Svezia la Danimarca in pratica tutta la nazione fa quasi gli abitanti solo di Roma e quindi questo fa capire che ci vogliono contesti protetti il secondo dato è che mi piace ricordare che quando la Gelli è entrata per la prima volta in aula la prima stesura prevedeva l'articolo 13 che poi è tutto proprio un ventaglio di eventi che sarebbero stati coperti in maniera indennitaria e c'era anche l'infezione correlata all'assistenza all'interno oltre ad altre fattispecie il sangue e cose del genere esatto anche lì ha fatto pochi passi in aula e poi subito cancellato il dottor Cisterna il presidente Cisterna chiedo scusa ha detto una cosa giustissima ancora una volta dicendo i dati io chiedo sempre nelle CTU noi vi possiamo fornire il dato del policlinico dell'ospedale Sant'Andrea quello di Sapienza calatelo in questo contesto non nel contesto di Harvard o di un'altra entità e questo è l'ulteriore fatto la contestualizzazione del dato che è fondamentale abbiamo un'altra domanda la nostra amica Gaetana Natale è l'avvocato dello Stato Gaetana Natale ci vuole sottoporre un quesito sì io più che un quesito buonasera vorrei dare una speranza ai medici che sono qui e anche ai giuristi si è parlato di dato di carenza di personale che deve registrare deve controllare la speranza da quello che diciamo sono gli ultimi studi ci viene dall'intelligenza artificiale noi attraverso la blockchain cioè i registri distribuiti ne abbiamo parlato sia all'università di Bologna con il dipartimento di chirurgia toracica sia all'ASL toscana con la blockchain con i registri distribuiti noi abbiamo la tracciabilità definitiva del dato quindi non è necessario il personale che svolge un'attività di monitoraggio abbiamo algoritmi che vengono addestrati nelle sale operatorie e negli ospedali che registrano il grado di umidità il livello diciamo di qualità dell'aria che registra la potenzialità del rischio da infezioni batteriche non solo un'altra speranza ne parleremo presto in avvocatura generale data da algoritmi che riescono a creare artificialmente antibiotici in laboratorio che supereranno l'antibiotico resistenza già un'azienda di Hong Kong ha creato un medicinale in silico con la quale l'AIFA e la Food and Drug Administration stanno già diciamo effettuando degli studi questo lo dico non perché l'intelligenza artificiale possa mai sostituire l'attività del medico che è un'attività diciamo soprattutto basata su una relazione ma perché in questo senso l'intelligenza artificiale e l'algoritmo può costituire proprio in questa procedura di monitoraggio del dato inteso come data mining cioè come dato che estrae un valore la pubblicazione del dato sui siti istituzionali degli ospedali attraverso questi sistemi di blockchain ripeto attraverso dei miners dei ledger saranno automatici non è un caso che negli ultimi corsi ECM che sono stati diciamo organizzati e predisposti sono previsti percorsi di formazione proprio sulla pensiero computazionale sul pensiero algoritmo è un aiuto è un aiuto che i medici possono utilizzare soprattutto in una situazione difficile di carenza di personale quindi questo discorso dei protocolli aziendali potrebbero trovare una procedura di tracciabilità definitiva è stata introdotta l'intelligenza artificiale anche nel codice dei contratti pubblici dove chiaramente sono richieste le certificazioni ISO anche se le norme tecniche c'è l'ISO 22.039 chiaramente verrà superato quindi è una speranza la medicina si sta indirizzando anche su questo e diciamo che i protocolli potrebbero trovare ripeto in un supporto tecnico che è sempre additional aggiuntivo di supporto e mai di replacement di sostituzione del medico un valido aiuto vi lascio con questa speranza forse questo dibattito sulla no fault compensation non so se gli algoritmi possono essere d'accordo vi ringrazio grazie all'avvocato Catana Natale che ci ha dato una speranza di fronte alla minaccia del super batterio magari l'intelligenza artificiale ci darà una mano grazie non so se ci sono altre domande se qualcun altro vuole intervenire altrimenti ci salutiamo sì ah come no certamente prego pratico cioè noi dobbiamo considerare una cosa che quando si parla di infezioni non socomiali noi parliamo di una percentuale molto minore rispetto a quella che realmente vediamo perché noi chirurghi in particolare abbiamo un numero di ferite che sono presenti con infezioni di persone che curiamo successivamente e che grazie a Dio non denunciano per cui il livello è molto alto quando si parla di prevenzione è giusto farla cioè noi dobbiamo considerare che la medicina legale ha una sua valenza una sua visione ma la clinica è completamente differente esistono possibilità di prevenzione e devono essere poste in campo grazie grazie anche a questo intervento finale professore noi ovviamente siamo aperti ai confronti a tutti i confronti fra clinici medici legali siamo qui giuristi quindi siamo aperti ovviamente al dibattito sempre tant'è che domani avremo un altro evento dalle 11 alle 14 sempre in quest'aula e sempre sul tema della responsabilità sanitaria o comunque del diritto sanitario in senso lato ci sarà il presidente Cisterna ci sarà il professor Finischi ed altri relatori anche l'avvocato dello Stato che tana Natale in particolare sulla formazione degli albi dei consulenti e tutto ciò che ruota intorno quindi alla gestione anche del contenzioso in ambito di consulenza tecnica con l'avvocato Perciballi che è qui che è la promotrice di questo incontro di domani quindi aspettiamo tutti quanti e vi diamo appuntamento a domani grazie per essere stati con noi grazie a tutti grazie all'avvocato Toppetti grazie a tutti Grazie a tutti